Scaletta è uno scalda saldette mobile. Tutti ormai in azienda lo chiamavano la scaletta e a quel punto ho pensato che fosse il nome più iconico e più giusto per descriverlo. Vedendo i radiazionali e gli still life dei prodotti per il bagno, vicino al lavaddino veniva sempre messa una scaletta in legno con un asciugamano appoggiato sopra. Io avevo pensato ma perché non unire due prodotti, cioè lo scalda salvietto elettrico con un prodotto che deve essere anche un po' divertente, un oggetto che ormai è entrato nella memoria dell'arredo bagno. La scala è un oggetto che si sposta ai pioli, quindi serve per raccogliere degli oggetti appoggiati sopra e quindi già comunica delle diverse funzioni nella sua etnografia. Era un oggetto che si spiegava da solo. Volevo che fosse un oggetto scultoreo e che non avesse spigoli. Questo oggetto, appunto perché è un oggetto riscaldante, ha il problema del flusso del gel all'interno che non deve perdere, non deve fuoriuscire e deve funzionare. Se fai un prodotto industriale lo devi fare per tutti, quindi non penso che ci sia una parte di me in questo oggetto. Più che altro c'è la mia capacità di progettare e in questo caso penso sia riuscita la capacità che ho raggiunto con gli anni di sintetizzare una funzione con una forma e cercare appunto di creare un oggetto che comunichi. Un oggetto design riuscito è un oggetto che parla in qualche maniera al consumatore perché dobbiamo pensare che se si parla di industrial design, se parla di prodotti industriali che non devono stare solo nelle vetrine dei negozi o all'interno delle riviste ma dovrebbero anche stare nelle case delle persone. Dovresti essere contento di portarti in questo oggetto a casa e dovrebbe darti un certo grado di soddisfazione vedertelo tutti i giorni nella tua casa. Iconica, pop, funzionale. Anima. Per tutti. Anima.